Una sala della comunità tutta nuova. Dopo due anni di chiusura, sabato 15 aprile, il Cinema Teatro Corallo di Villa Nuova Sul Clisi ha riaperto le porte come luogo e spazio di incontro, di testimonianza, di dialogo e di confronto per svolgere un servizio pastorale e insieme culturale. Con questa ristrutturazione voglio ringraziare la parrocchia Don Gualtiero per il lavoro eccezionale fatto, per aver reso questo luogo ancora più bello e più accogliente. Auspichiamo che possa diventare un luogo generativo per la comunità dell'oggi e del domani. Attraverso la cultura, attraverso la forza della cultura, il grande investimento coraggioso che dovremo fare, lavoreremo insieme per cercare di costruire una nuova comunità più aperta, più plurale, più moderna e capace di superare a volte i muri che ci dividono giorno dopo giorno. Abbiamo usufruito di un bando regionale che garantiva un contributo a fondo perduto di circa il 50% del progetto. Abbiamo aderito a questo e ci è stato deliberato un contributo di 165 mila euro. Sulla scorta di questo abbiamo coinvolto la Diocesi di Brescia perché venisse approvato il progetto, venisse approvata questa nuova collocazione del Cinemateatro Corallo. La Diocesi ha creduto in questo progetto e ci ha autorizzato alla richiesta di finanziamenti, affidamenti presso le banche con cui lavoriamo. Ma il senso della sala della comunità è quello di essere un presidio culturale all'interno del territorio e certamente dentro la comunità cristiana anche la possibilità di tradurre il Vangelo attraverso i linguaggi dell'arte, della musica, del teatro, del cinema, per far cogliere davvero anche quali sono le domande che ci portano a incontrare l'umanità e il tempo presente, ma al tempo stesso incrociarla anche col Vangelo. La bellezza di questa sala è che ha una storia, una storia già ricca di tante occasioni, ha una comunità viva alle spalle e quindi il desiderio di avere oggi anche una sala completamente rinnovata si innesta all'interno di un percorso già compiuto, una storia che consegna una capacità di comunicare la fede attraverso l'arte e la cultura e che nel futuro ci auguriamo possa essere uno spazio di bellezza perché questo spazio di bellezza lo è ed è visibile a tutti, ma al tempo stesso soprattutto nella bellezza delle persone che in questa sala si impegneranno come volontari, ma che calcheranno le assi di questo palco e faranno tante cose, speriamo, belle per questa bella comunità. La sala della comunità parrucchiale Corallo nasce nel lontano 1957. L'edificio, così ristrutturato, porta la capienza a 348 posti, più due destinati alle persone diversamente abili, e consente, oltre all'utilizzo primario legato alla proiezione di filme per bambini, ragazzi e famiglie, lo svolgimento di spettacoli teatrali, musical, concerti, incontri culturali e formativi. Una trentina di date sono a disposizione del Comune e ci sono richieste quotidiane da parte di associazioni, enti e scuole, anche di paesi limitrofi. Vi aspettiamo a vedere il cinema per tutte le famiglie e anche musical, spettacoli teatrali, il nostro palinsesto è molto bello, ci vedremo magari in settembre con un programma molto più ricco, e vi aspettiamo, potete vedere tutte le nostre proiezioni e tutti i nostri spettacoli su www.cinemacorallo.it